Grazie mille, ti hai visto? Fondata nel 2013, la società si è posta da subito all'obiettivo di creare un ambiente sano legato alla disciplina e all'educazione. La responsabile ha necessità di microfono? Non necessita di microfono e allora il via all'esibizione della scuola Taekwondo Canavese. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Ok. Grazie a tutti. 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 Pronto? Tra... Grazie a tutti. Prossimo stadio.